Bruno Gasperutti una vittoria incredibile della Triestina dopo un primo tempo veramente brutto brutto dove la Vispesaro era anche meritatamente in vantaggio un doppio vantaggio è arrivata questa reazione nel secondo tempo e poi nel finale quel grandissimo gol di Giorico prendiamo questi tre punti Bruno e così restiamo un po' attaccati al gruppone no? Sì prendiamo questi tre punti buonasera a tutti intanto che sono oro anche per come sono arrivati non ci si sparava veramente più perché si inseguiva già questo pareggio che Litteri ha tirato fuori veramente dal nulla perché Triestina ormai giocava a buttare la palla in mezzo si cercava con la forza della disperazione di venire a capo di questa Vispesaro Vispesaro ha fatto un buon primo tempo e dove secondo me ha anche meritato il vantaggio perché Triestina non c'era Triestina primo tempo è stata veramente scadente scadente sotto tutti i punti di vista sotto come idee come tram tram di gioco veramente lento e con tanti tanti passaggi sbagliati poi nella ripresa abbiamo visto una Triestina più arrembante più cuore ancora secondo me poche idee però la partita richiedeva più o meno questo e questo la Triestina ha dato e poi c'è stato come il fatto giustamente notare tu e quell'abbraccio finale che dà veramente l'idea che questo è un gruppo molto compatto e la gioia già il fatto che hanno segnato il 94esimo la gioia per questo gol è stata straripante nel gruppo e questo è un buon auspicio per il proseguo del campionato. Andiamo un po' a cercare così le piccole cose che non andavano soprattutto nel secondo tempo perché come hai detto tu giustamente Bruno nel primo tempo sembrava un po' al contrario no che la Vispesero fosse da prime posizioni la Triestina da bassi fondi non arrivavano neanche palloni agli nostri attaccanti c'è stato un solo tiro in porta di Mensah debole da limite centrale poi vediamo questo secondo tempo no quindi allora i primi minuti bene la Triestina ha cominciato nel pressing ha trovato il gol con Calvano gran bel gol anche lui da fuori area poi però siamo stati poco aggressivi sulle altre quarti. Secondo me abbiamo lasciato molto campo e li abbiamo lasciati giocare e la Vispesero nel secondo tempo ha giocato a perdertempo in modo legittimo per l'amore di cielo cioè tenendo paglia cercando di tenere paglia e noi lo lasciavamo fare. ogni volta che un'azione si concludeva ci volevano 3-4 minuti per riprendere loro il pallone e ripartire quindi il gioco era molto frammentario non riuscivamo a dare quella continuità che si deve dare quando sei in svantaggio e devi mettere sotto l'avversario e aggredirli tenerli bassi nella loro area invece loro riuscivano a venire fuori e abbastanza agevolmente secondo me è mancata una certa pressione dei centrocampisti sui loro e poi anche come attacco avevamo poche soluzioni come sempre di palloni buttati in area e ci è voluto veramente l'ingresso di Literi che in area di rigore è un'altra cosa rispetto agli attaccanti che abbiamo perché Literi è il classico uomo d'area di rigore infatti il gol è venuto dal niente dal nulla cioè ha anticipato l'uomo l'ha messa nell'angolino cioè è veramente un uomo gol mentre sia Mensah sia Gomez sanno altre caratteristiche io l'ho sempre detto questo però e Literi purtroppo da quanto vedo c'è 30 minuti di autonomia ecco anche perché era fermo da abbastanza tempo però insomma un'arma in più sicuramente un'arma molto importante per il proseguo del campionato e a proposito di armi per il proseguo del campionato e possiamo parlare di Sarno Sarno dopo un periodo che era nell'ombra dove non giocava neanche qualche minuto oggi invece mister Pilon ha creduto in lui lo ha messo in campo dal primo del secondo tempo abbiamo visto che comunque Sarno si è dato molto da fare sì non mi è dispiaciuto Sarno veramente ha giocato da tre quartista dietro le due punte e ha fatto una discreta partita perché c'era bisogno proprio di quello dell'uomo che riuscisse a mettere la palla a terra magari saltare il primo pressing avversario non mi è dispiaciuto ha fatto diverse cose buone anche in area di rigore quel paio di volte che è riuscito a mettere il palla in terra è quello che serve nelle aree così diciamo ribollenti di uomini ecco riuscire a tenere il pallone in area è sempre pericoloso perché il difensore non è che può entrare come fa a metà campo quindi deve essere molto cauto e Sarno oggi non mi è dispiaciuto non ha fatto niente di particolare però era l'uomo giusto al posto giusto ecco Bruno quando si vince naturalmente ha ragione la società ha ragione l'allenatore hanno ragione tutti però torniamo sul discorso dei centrocampisti della Triestina perché quando Bultam ha lasciato il gruppo alla Triestina sono rimasti in pratica quattro centrocampisti calcolando che Paulinho comunque non è ancora nel gruppo quindi ci vorrà tempo e come hai ripetuto più volte difficilmente si vedrà un Paulinho all'80-90% in questa stagione quindi ce ne sono rimasti quattro Maracchi si è fatto male Giorico non ha giocato neanche la scorsa partita anche lui si era fatto male anzi era uscito nel finale con un problemino poi per fortuna insomma in questi giorni lo ha recuperato quindi diciamo che il centrocampo è ancora quello che magari può un pochino far pensare che sarà un po' un reparto difficile si è un reparto piuttosto scarno ma questo io l'ho detto subito abbiamo in pratica abbiamo ceduto due centrocampisti e mezzo perché anche Cavaliere non serviva perché non giocava mai però Lodi e Bultam erano due centrocampisti abbiamo ceduto due però quest'anno neanche uno quindi sono rimasti quattro più questo Paulinho che secondo me quest'anno sarà con quell'infortunio che ha avuto lo vedremo difficilmente in campo in condizioni discrete ecco perché qua ormai come abbiamo visto sono battaglie quindi bisogna avere ritmo partita ritmo gara Paulinho non va nemmeno in panchina quindi ho qualche dubbio sul suo impiego proficuo nel proseguo del campionato ecco ultima battuta Bruno l'arbitro tanto tempo non parliamo di arbitri ogni tanto mi piace un po' stuzzicarti quest'oggi c'era Tommaso Zamagni da Cesena ecco quindi Cesena sta lottando con la Triestina per i playoff per un buon piazzamento e quindi al di là del fatto che abbia arbitrato bene o male a mio avviso non benissimo però secondo te ne parlavamo anche durante la partita una designazione inopportuna sì ecco diciamo questo non ha fatto niente di particolare l'arbitro per l'amor del cielo non volevo dire questo però ridevamo del fatto che effettivamente a Triestina in pratica si sta giocando un buon piazzamento nei playoff con Cesena e Modena lei diciamo che sono le due più accreditate secondo me dopo le tre di testa insomma è piuttosto un opportuno non mandare l'arbitro di Cesena perché allora mandiamo anche noi l'arbitro di Triest ad arbitrare il Cesena quando gioca in casa insomma loro fanno in federazione potrebbero evitare perché poi magari questo da un rigore alla vispesa noi ce l'abbiamo anche un rigore che c'è magari ecco già a suo tempo io ne ho viste di questi casi mi ricordo sempre partita decisiva Triestina-Rimini e parlavamo prima arbitro Brighi di Cesena insomma quando gioca praticamente uno spareggio Triestina-Rimini insomma è inopportuno mandare un arbitro di Cesena io ti ho ricordato un fatto che mi ricordo ero piccolo Triestina giocava in Serie A e lottava per la salvezza col Torino in una partita decisiva qui al stadio Grezzar ti arriva l'arbitro di Torino il pubblico ha cominciato per tutta la partita a faceva il coro Torino 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 secondo me queste cose qua potrebbero evitarle grazie a tutti